Non ricordo nemmeno il peggior Berlusconi vantarsi così tanto di non rispettare le sentenze. È veramente imbarazzante. Queste le parole dell'attivista del Movimento 5 Stelle Mauro Giulivi, autore del ricorso contro le regionarie palermitane dello scorso 4 luglio, sospese dal Tribunale di Palermo, commentando la dichiarata intenzione del Movimento e del candidato presidente alla regione siciliana Giancarlo Cancelleri di andare avanti nonostante la decisione del giudice. La decisione dei 5 Stelle è quella di presentare a loro volta ricorso contro il decreto del Tribunale Civile di Palermo e quindi al momento procedere con la campagna elettorale. Proprio oggi l'aspirante governatore insieme a Luigi Di Maio, candidato premier, ha iniziato un nuovo mini-tour nelle province di Messina e Catania. Intanto vi mostriamo la reazione del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, alle domande dei cronisti che chiedevano appunto informazioni dopo la decisione del Tribunale di Palermo. Invece di commentare e dire la propria, riportando la sua verità dei fatti, non fa altro che criticare, come sempre, la stampa. Il video è tratto da Repubblica.it. Vi mangerei tutti per il gusto e poi di vomitarli. È rischioso Grillo andare avanti in Sicilia facendo finta di nulla. Voi siete i principi del pettegolezzo, quindi non mi coinvolgerete più. Il Tribunale Grillo però. Il Tribunale Grillo non è pettegolezzo. Nessuna risposta quindi sui candidati Cancelleri e Di Maio, piuttosto che spiegare alla gente, preferisce spostare l'attenzione e attacca solo i giornalisti, disprezzando il duro lavoro che giornalmente fanno, guadagnandosi, nelle migliore delle ipotesi, 10 euro a pezzo, come dice lui stesso, per poi vedersi sbattuta la portella dell'auto in faccia, come se fossero non sappiamo cosa. Ecco cosa fanno i giornalisti. Raccontano sempre le cose come stanno, piaccia oppure no. A vergognarsi, insomma, non dovrebbero essere i giornalisti. Tornando a casa nostra, nella nostra terra, si spera che il movimento locale non si lasci guidare da questi modi del tutto indecorosi mostrati dal loro leader nazionale. D'altronde, in campagna elettorale, la candidata sindaca a Nalba, ospite gratuitamente nei nostri studi televisivi, diceva che nel movimento non ci sono né capi né padroni. La regola più importante è che uno vale uno, non ci sono né capi né padroni. Che questo sia ben chiaro a chi abbia cercato di dare adito a voci secondo cui noi abbiamo padroni o capi che seguono le fila. Assolutamente smentisco a cuore aperto. Il nostro obiettivo è rivolgerci ai cittadini. Lo speriamo vivamente. Sarebbe davvero un peccato guastare le giuste proteste del movimento con delle argomentazioni che lasciano il tempo che trovano.